Sono partite per 370.000 famiglie napoletane le operazioni di compilazione dei questionari relativi al quindicesimo censimento generale della popolazione delle abitazioni 2011. Il modello, per la prima volta ricevuto direttamente a casa via posta, può essere riempito in modalità cartacea oppure, ed è questa la grande novità di quest'anno, comodamente online sul sito Istat dedicato al censimento dal 9 ottobre fino al 20 novembre. Abbiamo fatto in modo che ci sia il massimo del sostegno possibile ai nuclei familiari affinché possano compilare questo questionario nella maniera più agevole possibile. Il censimento è ovviamente una grande inchiesta sulla città, sulle sue condizioni socio-economiche, sul stato delle abitazioni. Speriamo che sono convinto, sono certo che la città si faccia trovare pronta per questo appuntamento. Con la realizzazione di uno spot informativo visibile sul sito istituzionale e la collaborazione di CAF dislocati in 200 sedi territoriali per fornire assistenza nella compilazione via internet, il Comune di Napoli invita la cittadinanza a partecipare alle operazioni di censimento e promuove un concorso a premi per incentivare la restituzione spontanea dei questionari, in particolare via web. In palio per i fortunati estratti a sorte che hanno rispedito il modello compilato, computer portatili, romanzi, biglietti per il teatro ed abbonamenti al Cineforum.